Furto ieri sera al santuario dei Santi Cosma e Damiano di Eboli. Alcuni ladri hanno rubato ben nove candelabri in ottone dei dodici complessivi presenti nella sacra struttura religiosa. I delinquenti avrebbero agito prima delle 17.30, quando si è scoperto che mancavano i preziosi oggetti utilizzati per illuminare le statue degli altari laterali e dei Santi Medici. Il rettore della struttura, il francescano padre Angelo Di Vita, è stato tra i primi ad accorgersi del furto. In pochi minuti sono giunti sul posto la polizia locale di Eboli, i carabinieri ed il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Gli inquirenti hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e del rettore del santuario, che ha proceduto a sporgere formale denuncia. Inoltre al vaglio la verifica di una telecamera posta in zona, per controllare se abbia potuto immortalare qualcuno qualcosa di strano utile per le indagini.